Andrea Marchisio serviva questa partita per rompere un po' di ruggine per trovare anche il clima del match, che sensazioni hai provato? All'inizio è stato un po' duro perché comunque vengo da un anno in cui non ho trovato molto spazio perché con il cambio di allenatore era giusto che la squadra trovasse determinate dinamiche e quindi che le riserve facessero ruolo di riserva. Dopo un primo set un po' faticoso, sono riuscito a trovare i miei ritmi, i ragazzi mi hanno aiutato, comunque ci siamo andati una mano tra di noi e il risultato si è visto che abbiamo fatto una buona prestazione, un bel 3-0 che nonostante non servisse praticamente a niente per la classifica dà umore a tutta la squadra. Un buon viatico per i play-off, arriva Verona con quali ambizioni, con quali criteri andate ad affrontare questa squadra? Diciamo che è uno degli accoppiamenti più difficili di questi play-off, Verona è una grande squadra, ci ha dato filo da torcere sia all'andata che al ritorno in campionato, ha ottime individualità, però noi siamo la lube quindi le ambizioni sono alte e chiunque sia l'avversario noi dobbiamo giocare la nostra migliore partita, la nostra migliore pallavolo e andare il più avanti possibile.